Tifosi Bianco Celesti ben ritrovati con l'Entella TAI, il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. Oggi è iniziata la settimana dei Bianco Celesti in vista del derby di domenica alle ore 16.15 allo Stato Luigi Ferraris di Genova contro il Sestri Levante. Sarà il novantesimo derby del Tiguglio e oggi pomeriggio la squadra ha iniziato la preparazione. Naturalmente lo stadio comunale di Chiavari seduta a porte aperte per i ragazzi di Fabio Gallo che torneranno in campo anche domani sempre a porte aperte con la doppia seduta. Stiamo al mattino che al pomeriggio porte aperte anche giovedì pomeriggio, la settimana poi si chiuderà con due sedute a porte chiuse venerdì e sabato. Gli orari li trovate sul nostro sito internet www.entella.it e da domani alle ore 9 saranno anche in vendita i biglietti per assistere al derby del Tiguglio. Etes.it, il sito di riferimento per chi volesse acquistare il tagliando online, sarà aperto anche da domani l'Entella Point. Quindi ci sarà la possibilità per tutti i tifosi bianco celesti di venire ad acquistare direttamente nel nostro Point in Corso Colombo il biglietto. Saranno aperti, come avete potuto leggere anche nei giorni scorsi, i settori della gradinata nord riservata per i tifosi del SS Vievante, la tribuna e la gabbia, il settore ospite dell'ossale Luigi Ferraris che sarà dedicato ai tifosi dell'Entella. Per la partita il club amici della vetreria, come sempre, come ogni trasferta organizza anche dei pullman che partiranno da Chiavari. Per le informazioni vi invitiamo in questo caso a contattare il club amici della vetreria, mentre per sapere le modalità d'acquisto dei biglietti e i prezzi di vari settori, come sempre, potete consultare il nostro sito internet www.entella.it per avvicinarci insieme al derby del Tiguglio. Entella Time torna domani puntuale alle ore 19. Grazie a tutti, grazie a tutti.